amici buongiorno a tutti sono le otto di mattina insieme coppo di mattina cuciniamo un po di cereto certo siamo tirati ieri sera ma la massosa lo stesso siamo a cucinare e ora vedo oggi facciamo un po di carne un po di petto di pollo amici diamo un coppo in patella togliamo il crudo togliamo il crudo e niente che dici andiamo a cucinare andiamo a sosta ne bucamo il zio e mezzo perciò dobbiamo andare a trovarlo scelto carne e petto di pollo in patella presto presto e veloci veloci carne per cotolette è un coppo in patella veloci veloci presto presto appesa la cucinano loro la mettiamo tutta qui dentro in una vaschetta di plastica la mettiamo a destra amici vi auguro una buona giornata a tutti siamo in preparazione preparazione a più tanti scelto grazie 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 grazie